Buongiorno pavleiani, benvenuti a questo nuovo episodio della rubrica Roba archeologica. State già in clima di festa eh? Non so voi, ma a me il Natale mi piace. Mi piace perché Natale è tradizione. Tradizione nel suo più ampio significato, ma anche tradizione per i singoli. Natale è la buffata al cenone, quelle scene che poi ti devi calare la citrosodina a cucchiaiate. Natale è il maione che ti ha regalato zia, quello che te puncica, che te riempi de bolle, che te vorresti scuogli a vivo, ma che sei costretto a mettete perché altrimenti zia poi soffende. Natale è quel sorriso falso che devi fa' quando arrivano i parenti che vedi una volta l'anno, che è pure troppo perché te stanno profondamente surca. Natale è quella quieta parente tra l'antipaster primo, quella quiete che diventa una lotta senza quartiere, quelle faide familiari che Capuleti e Montecchi scansateve proprio. Natale è una poltrona per due, con l'immancabile frase che qualcuno pronuncia sempre ah oh ma la pellicola si starà a consumà, ah ah. Insomma Natale è quella bolgia d'emozioni, quell'altalena costante tra il che bello che è il Natale e il mamma mia che accollo, un miscuglio, un intruglio, una mescolanza tra sacro e profano. E lo sono anche i suoi simboli, l'albero, il presepe. E ognuno a Natale sviluppa anche le proprie tradizioni personali. Io ad esempio a Natale c'ho una tradizione spietata, una tradizione che non fa prigionieri, perché cascasse il mondo io tutti l'anni me rubo una pecora dal presepe dei parenti e amici. Ma quest'anno ho vinto io. E quindi ecco suocera guarda e piangi, guarda e piangi. Vi domanderete da dove viene sta cosa? Boh, io so solo che sin da bambina ogni volta che guardavo un presepe, cioè ogni volta che mi stavo a puntare la prossima vittima, mi sono sempre domandata ma perché lo facciamo? Sì vabbè perché ci piace, perché è estetico, ma scavando ancora più a fondo. Proprio come fa un archeologo, quindi scavando e scavando ancora. Perché? Che significato c'ha? Ed è a questa domanda che risponderemo oggi. Quindi come sempre prima di partire, clicca sulla campanella, mettete un like o un commento, se ci tenete a rivedere le vostre pecore. E siamo pronti a partire. Sigla! Dunque, protagonista assoluto di oggi è il presepe. Quasi ogni casa ne ha uno. E quasi ognuno di quelli che fanno il presepe tenta tramite il presepe di comunicare un qualcosa. C'è chi lo fa tradizionale, chi lo fa futuristico, chi lo fa corpane, chi fa naccrocco e anche chi lo politicizza, soprattutto in Italia. In questi anni abbiamo visto di tutto. Polemiche sul metterlo o non metterlo nelle scuole, re maggio in mascherina, sacra famiglia LGBT, persino il presepe a tema migranti. Ora, tralasciamo le polemiche sui singoli messaggi. È evidente però che col presepe si vuole comunicare un qualcosa. E siccome ormai, lo possiamo dire, siamo una società totalmente disattenta, una società che fa le cose un po' per abitudine, un po' per moda, così senza pensacce. E siccome sto tipo di società partorisce poi i geni, tipo il sindaco di Modena, che per il clima natalizio e per i bambini ha allestito un carro armato con le bandiere di Israele e con Babbo Natale sopra, una cosa veramente de classe e de un certo buon gusto, soprattutto che denota una certa sensibilità sul tema, no? Ecco, siccome noi non volemo essere come il sindaco di Modena, ma volemo averci un cervello pensante, è importante capire quello che si sta facendo, collegare un simbolo al suo significato. Allora forse ci potrebbe tornare utile capire il simbolo del presepe, dove nasce, cosa significa, il significato dei singoli personaggi e persino dei singoli oggetti che non sono buttati lì a caso. E soprattutto cercare di capire come una tradizione tutta italiana sia un ponte, un collegamento, un collegamento tra civiltà, un collegamento tra sacro e profano, in una storia che parte per noi più di mille anni fa, ma che se vogliamo è anche molto più antica. E così tutto inizia nel 1220. È un periodo un po' particolare quello, perché siamo nel piano di quello che gli storici definiscono il periodo della Quinta Crociata, quindi la quinta di quelle otto spedizioni militari, e qualche storico dice anche nove, condotte tra fine undicesimo secolo e fine tredicesimo secolo. Spedizioni condotte dalla cristianità per la riconquista di Gerusalemme e della Terra Santa dalle truppe musulmane in Medio Oriente. Siamo quindi calati in un contesto di enorme fervore religioso, dove a farla da padrone sono soprattutto i pellegrinaggi. Noi oggi il pellegrinaggio lo intendiamo in un senso quasi turistico, ma a quell'epoca il pellegrinaggio era invece una cosa molto seria. Il pellegrino prima di partire doveva fare tutta una serie di purificazioni. Insomma, era una roba molto impegnativa e molto sentita, era praticamente un obbligo per il buon fedele, un obbligo che non doveva essere vissuto in una dimensione privata, ma che anzi andava esteriorizzato, dimostrato. Le due mete più ambite di questi viaggi spirituali non potevano dunque che essere Roma, sede della Chiesa Cattolica, e chiaramente la Terra Santa, cioè la Terra in cui nasce la fede, dove ci sono i luoghi della nascita, della morte e della resurrezione del Messia. Quell'area quindi corrispondente ai territori dell'odierna Palestina. Territori che allora, come oggi, restano contesi tra le tre religioni monoteiste. Quella terra che è un crocevia di culture religiose, ma anche luoghi segnati da sanguinosissime guerre. Terre contese nel nome di chi possiede l'unico vero Dio che è più unico e più vero di quello degli altri. Nel 1220, come oggi. E mentre infuria la Quinta Crociata, infuria anche la spinta spirituale, e quindi enorme spinta al pellegrinaggio. D'altronde i crociati, altro non erano che pellegrini, che portavano il concetto di obbligo di fede al massimo grado, all'estremizzazione totale, ovvero alla caccia all'infedele. E quindi partivano per la Terra Santa armati. Ma come in tutte le cose, c'è l'estremizzazione, quindi chi concepiva che la conversione dovesse arrivare tramite la spada, e chi invece concepiva la conversione come evangelizzazione. Quindi chiaramente c'erano anche pellegrini non guerrieri, armati della sola parola. I francescani, ad esempio, erano tra questi. L'ordine viene fondato da San Francesco d'Assisi, che è anche patrono d'Italia, nel 1209. E i francescani giungono in Terra Santa tra 1215 e 1217. Ed è proprio il 1217, l'anno dell'inizio della Quinta Crociata. San Francesco chiaramente la spada non ce l'ha. Da giovane però ce l'aveva avuta. Era stato indubbiamente un uomo di guerra e di armi, ma da quando ha avuto la sua chiamata di fede non ha mai più impugnato un'arma. Anzi, la fede gli impone di riporre la spada nel fodero. E Francesco si raga in Terra Santa perché vuole incontrare gli islamici, vuole dialogare con loro. E nel suo viaggio rimane molto colpito da quei luoghi. Rimane soprattutto molto colpito dalla visita a Betlemme, a quella che viene tradizionalmente identificata come la Grotta della Natività, che ancora oggi indichiamo nella cripta della Basilica della Natività a Betlemme. È il 1223 e Francesco rientra a Roma da Papa Onorio III, pure perché il Papa gli aveva da poco confermato la regola francescana. E rientrando a Roma si ferma a Greccio, un piccolo paesino nella provincia di Rieti. E forse per i paesaggi di Greccio che gli richiamarono alla memoria quelli di Betlemme, o forse saranno state le scene degli affreschi della Basilica di Santa Maria Maggiore che lo avevano influenzato, come narra il suo biografo Tommaso D'Acelano. Fatto sta che sentì l'esigenza di allestire il primo presepe della storia. Quello di Francesco, intendiamoci, non è ancora un presepe artigiano, cioè plastico, ma è un presepe vivente. Molto semplice, tra l'altro. La grotta, la mangiatoia, il bue, l'asinello. Cioè proprio l'iconografia standard e classica che tutti conosciamo. Ed è quindi con lui che si crea questa iconografia precisa, fissa, che però prima di diventare presepe fisico maestranza artigiana deve aspettare ancora un po' di tempo. Diciamo che le vere prime attestazioni di presepe con statuine le troviamo intorno al XV secolo in Emilia Romagna. Ma la vera e propria arte del presepe si configura con i Borbone. Fu quella famiglia soprattutto nella figura di Carlo Borbone a promuovere l'arte del presepe. E con loro il presepe canonico, cioè quell'iconografia standard francescana, cambia radicalmente. Con loro il presepe cessa di essere esclusivamente religioso, ma è lì che il sacro comincia a mescolarsi col profano, con la creatività artistica, con l'artigianeria, con quell'estro anche modaiolo se vogliamo. Perché in quel momento il presepe diventa allestimento di corte. C'è un qualcosa di cui farsi vanto, da mostrare. Tanto che comincia ad essere chiamato appunto presepe cortese. Ed è proprio nella reggia di Caserta che si conserva uno dei più grandi esempi di quest'arte, esaltata dai reali borbonici. Un'opera di inestimabile valore artistico ed economico composta da più di 1200 figure. Statuine in terracotta lavorate da artisti eccellenti, rivestite con pietre dure e con stoffe preziosissime, e che prendeva lo spazio praticamente di un'intera sala. Insomma, una roba mastodontica, che di anno in anno, di discendente e indiscendente, si faceva sempre più grande. Si registra ad esempio che nel 1844 la famiglia reale fece un presepe talmente tanto grande che si dovette allestirlo in una delle sale maggiori della reggia di Caserta, la sala della cosiddetta racchetta. Comunque questa usanza dei reali che con Carlo trova la sua massima espressione diventa anche un polo di grande fervore artistico. Venivano chiamati i migliori artisti per scolpire i volti, i migliori sarti per fare i vestiti, e anche Carlo si dilettò a disegnare personalmente i bozzetti di alcuni pastori. E come abbiamo detto questo presepe cortese era molto diverso da quello canonico. Ricordiamoci che quella è anche l'epoca degli inizi delle indagini archeologiche e degli scavi nei siti di Pompei ed Ercolano, indagini e scavi che il sovrano finanziava e supportava. E quando dagli scavi emergevano colonne, mura, mosaici, beh, non si poteva non subirne il fascino. È per questo che pezzi di colonne, di templi, di mura cominciano ad essere inserite anche nelle scene dei presepi. L'archeologia che si fonde con l'arte presepiale, il fascino dell'antico che si mescola al quotidiano. E così nel presepe si comincia a trovare, che so, una madonna appoggiata ad una colonna corinzia che si affaccia su un vico tradizionale di Napoli. Si possono trovare grotte della natività da cui al piano di sopra spuntano panni stesi di una tradizionale finestrella di un vico. E anche il contesto in cui viene calata la natività diventa del tutto quotidiano. La Sacra Famiglia al centro di un grande movimento di personaggi. Personaggi intenti nei mestieri quotidiani. Banchi di frutta, panettieri, banchi del pesce. Donne che calano panieri dalle finestre. E solitamente, sullo sfondo della scena, un Vesuvio eruttante. Fare il presepe è un lavorone che impiega un botto di tempo e per cui ce vuole un sacco di pazienza. E io ce l'ho dentro casa il mio mastro preseparo preta portè. Ma ha distrutto una casa, eh? Ma quanto gliel'ho invidiata quella pazienza che fa pure i dettaglini più minuscoli. La sacchettina dell'aglio, la sedia dei vimini che al terzo intreccio, se era per me, io avevo già buttato tutto. E l'ho vista la faccia di quell'uomo alle 5 de mattina con l'occhi rosso foco. L'uomo distrutto e smosso da una passione creativa. Che infatti quest'anno mi ha detto accontentate da casetta, i pastori li famo l'anno prossimo. Quindi immaginatevi la mole del lavoro per 1200 figure. Non solo lavorarli, ma pure cucirgli a mano i vestitini. Cioè anche fare il presepe di per sé è una sorta devoto. Ma lo è per davvero. Ed è un'arte che a Napoli vive tutt'oggi. Non solo nella più famosa via dedicata all'arte del presepe che è San Gregorio Armeno, ma anche nella dimensione privata dei partenopei. E chi sono i personaggi del presepe napoletano? A parte va becchi, questa miscela tra sacro e profano l'ha portata fino alla massima espressione con statuine anche di calciatori, politici, VIP, cantanti. Ma vedete, anche in quel caso il presepe assume la funzione di ponte. Un ponte tra il 1700 e la contemporaneità, che ci fa capire come il presepe non ha mai smesso di essere lo specchio della società. E quanto il presepe abbia questa funzione di ponte lo troviamo anche nella sua influenza teatrale, in una delle opere tragicomiche più importanti del teatro italiano, Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Lì il presepe assume la funzione di ponte tra padri e figli. Sono 36 anni che me vedo Natale in casa Cupiello e 36 anni che piango. Cioè pure quella è la mia tradizione de Natale. Questo per dire come il presepe sia molto di più che mettere statuine un po' qui e un po' lì. Ma torniamo a chi sono i personaggi. Beh, si dice che i personaggi iconici che compongono il presepe napoletano sono 72. 72 iconografie ben precise, ma anche oggetti ben precisi. Chiaramente non possiamo passarli in rassegna tutti e 72, ma ne analizzeremo alcuni iconici e particolari. Ad esempio c'è la zingara, che tradizione vuole che abbia predetto la nascita di Gesù e poi, per aver peccato di presunzione, leggenda vuole che venne trasformata in civetta. C'è l'uomo che cerca con la lampada, che rappresenta l'animo umano, che ha la continua ricerca della luce per uscire dalle tenebre. E questa connotazione luce e tenebre non è solo ed esclusivamente nel senso della fede, ma ha anche un suo aspetto profano, cioè l'uomo che cerca di uscire dalle brutture della vita. C'è Cicci Bacco, o meglio, Cicci Bacco sul carro. Lo troviamo sul suo carretto trainato da buoi, carico di botti di vino, ed è rappresentato di solito sempre bello in carne, con naso rosso di vino, che di solito si mette vicino alla grotta. Detta così, sembrerebbe che possa richiamare all'allegria, al clima di festa, ma in realtà il senso è molto più profondo, perché nella sua figura c'è un collegamento con il pantheon delle divinità greco-romane. Cicci Bacco, anche solo il nome, richiama al Bacco Romano, e conseguenzialmente anche al Dioniso Greco. E noi sappiamo che il Dioniso Greco non era solo il dio dell'ebbrezza, ma anche il dio della perdizione, del menadismo, dei riti orgiastici. C'è queste donne che in un periodo dell'anno, cioè quello delle feste d'Onisia, che abbandonano mariti, figli, focolare domestico, e si recano nei boschi per darsi alla sfrenatezza, sia del vino che sessuale. Ma Cicci Bacco richiama anche all'ebbrezza del Sileno, che è sempre stato identificato come un simbolo di saggezza. Ritorna di nuovo nella sua figura quel ponte tra sacro e profano. E da qui si genera anche un detto napoletano, di quando uno appare particolarmente brillo. Ma siccome da romana non voglio oltraggiare il dialetto napoletano, ve lo faccio dire da un esperto. Chi è? Sto facendo il video. Vi volevo chiedere, come si dice quando uno sta ubriaco, quella roba là di Cicci Bacco? Possibile roba, tutti chissate, tu non sai come si dice napoletano. Cicci Bacco è un colpo da putto. Ma Cicci Bacco richiama anche all'eucaristia. Il pane e il vino, l'ultima cena. Insomma, come vedete, è un filo che attraversa la storia. C'è Benino, il pastore dormiente, che di solito viene rappresentato come un ragazzo. Allude all'immaturità. È dormiente perché appunto non c'è ancora avuto la sveglia della vita. Ma anche qui di nuovo, o quella della vita, o quella della fede. Anche qui c'è il collegamento con il mondo antico. Perché è un'allusione al passaggio all'età adulta, i riti di passaggio. Ma anche il passaggio dal vecchio al nuovo, dal sonno alla veglia. Simbologia della fine e il principio che la natività sancisce. Poi c'è un personaggio molto particolare. Stefania. Stefania, secondo la leggenda, è una donna vergine che si era incamminata verso la grotta perché voleva vedere Gesù. Ma viene bloccata dagli angeli che impediscono alle donne senza marito di vedere la Madonna che aveva appena partorito. Allora Stefania, che però Gesù lo voleva vedere a tutti i costi, prende una pietra e la avvolge nelle fasce. E portando questa pietra riesce ad ingannare il blocco degli angeli. Ma quando fu di fronte a Maria, la pietra d'improvviso starnutì e si trasformò in un bambino. Il primo bambino nato per miracolo dopo Gesù il giorno dopo il 25, quindi il 26 dicembre. Santo Stefano. Eppure qui c'è tutto un collegamento col mondo pagano, con il mondo delle religioni orientali, la pietra che collega al culto di Mitra, quel mitra nato dalla Petra Genetrix, quel mitra così simile a Gesù di cui abbiamo parlato anche in uno scorso video. Vedete il filo conduttore, come siamo tutti legati. E per rimanere sul tema del filo c'è appunto la donna che fila, dove anche qui il riferimento è legato al mondo antico e alla figura delle parche, che discendono dalle moire greche, quelle dèi che presenziano alla nascita degli uomini e tendono il loro filo della vita e decidono come lavorarlo, come intrecciarlo e come reciderlo. Ma il soggetto forse più particolare del presepe è la taverna. In ogni presepe cortese c'è sempre la taverna, quella taverna a cui Giuseppe e Maria si sono rivolti per cercare alloggio e che invece li ha rimbalzati, costringendoli poi a ripiegare sulla grotta. E nella taverna ci sono sempre personaggi particolari, rappresentati mentre sono intenti a bere, a giocare a carte, a cantare, totalmente ignari del fatto che poco distante da loro si sta compiendo un evento centrale della storia. La taverna è, in un certo senso, simbologia del peccato, simbolo di coloro che non hanno saputo riconoscere la fede che ha bussato alla loro porta e quindi condannati a rimanere nel vizio per sempre. Se vi guardate bene, sembrano un po' erce non è natalizio che ci avemmo tutti dentro casa, perché è il mondo materiale che si contrappone a quello spirituale ed è proprio l'essenza del Natale. spiritualità per qualcuno, ma per la stragrande maggioranza della gente shopping, regali, magnate, bevute. Di nuovo lo specchio della società. Ora abbiamo fatto una manco troppo rapida carrellata, ma in realtà ci sarebbe molto altro da dire. E poi un'ultimissima curiosità popolare. L'usanza di fare il presepe ha creato anche dei giorni canonici in cui si fa e si disfa il presepe. Si fa l'8 dicembre e si disfa il 2 febbraio. Sembra che queste date, soprattutto quella dello smantellamento, siano state create apposta per imporre ai pigri di smantellare sti benedetti presepi. Accadeva spesso che la gente non ci avesse voglia di smontagli e li tenesse tutto l'anno. E quindi a Napoli, per dire una cosa che ha proprio scocciato, una cosa che si tira per le lunghe, c'è proprio un detto specifico. Riinterpelliamo l'esperto. Pronto? Eh? Un gore, che vai trovando? Come si dice invece quando uno è pesante, uno che ti scoccia proprio? Come te, da sto momento, sei proprio un presepe. Quindi come vedete c'è un mondo di significati dietro quello che facciamo in modo automatico senza manco pensarci. Un mondo di significati che stiamo perdendo ma che non dovremmo perdere. E il ruolo dell'archeologo è proprio quello di riportare alla luce cose che pensavamo di aver perduto. E in particolare di questi tempi il presepe assume un significato ancora più importante. Un ponte Trammondi che oggi, come all'epoca delle crociate, ci insegna che il ponte Trammondi è possibile anche senza l'uso della spada. Ecco, mentre in questo momento quella terra è piegata da una sorta di ennesima crociata, forse il nostro compito dovrebbe essere quello di costruirli questi ponti Trammondi proprio come abbiamo fatto nel 1200. E' proprio quella l'origine della nostra eccellenza. E così abbiamo concluso. Se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un cenno della vostra approvazione. E nel caso prima delle feste non dovessimo vederci con un nuovo video di roba archeologica io quindi nel frattempo vi abbraccio tutti, vi faccio i miei migliori auguri e mi raccomando solo una cosa. Se vi trovate di fronte a un presepe divulgatele queste curiosità perché ci abbiamo assoluto bisogno di mantenerle vive queste cose, non solo con i video, ma anche con la cara della vecchia tradizione orale con i racconti alla vecchia maniera. Vi abbraccio nuovamente tutti ci vediamo alla prossima e ciao! Ciao!